un luogo non è mai solo quel luogo quel luogo siamo un po anche noi in qualche modo senza saperlo ce lo portavamo dentro e un giorno per caso ci siamo arrivati questa frase di antonio tabucchi si trova all'interno del nuovo calendario di romena romena il luogo del cuore il calendario che scandisce tutti i giorni del 2023 e lo fa portando delle nostre case un pezzo della nostra esperienza la nostra piede vista nelle varie stagioni dell'anno e così il luogo del cuore può starci vicino può ricordarci che esiste uno spazio in cui ci siamo sentiti un po più veri in cui abbiamo vissuto delle esperienze speciali il nostro calendario può essere un piccolo dono natalizio lo potete trovare nel nostro negozio dove mi trovo in questo momento oppure lo potete acquistare online altrimenti vi viene offerto in regalo se acquistate una delle nostre confezioni insomma un modo anche questo per sostenere romena in questo natale e per accompagnare il vostro 2023 grazie a tutti grazie a tutti